Bene, vediamo sullo schermo Gustav Mahler all'età di 32 anni in mezzo alla composizione della seconda sinfonia, la sinfonia più importante nella sua vita. La prima assoluta è avvenuta a Berlino nel 1895, qui vediamo il manifesto della prima assoluta diretta dal compositore con i Berliner Philharmoniker. E' importante perché segna l'arrivo di Mahler come una forza dirrompente nel mondo della musica contemporanea mondiale. Nel 1899 alla Sala d'Oro del Musique Verein a Viena, Mahler in quanto direttore musicale del trono musicale d'Europa, l'opera imperiale di Viena, si presenta per la prima volta come compositore dirigendo in questa sala appunto la seconda sinfonia. Nel 1903, lo vediamo qui a Basilea, questa è la prima fotografia che si conosca di Mahler con Alma, sono sposati da un anno, e nel Duomo di Basilea Mahler per la prima volta nella sua vita ha un successo assoluto in quanto compositore. La sua carriera di compositore è stata una delle più travagliate della storia e nel 1903, all'età di 43 anni, a meno di sette anni della morte, ottiene per la prima volta un grande successo grazie alla seconda sinfonia. In 1907, Mahler in seguito a una campagna antisemitica, era ebreo, deve dimettersi dal trono musicale d'Europa all'epoca, l'opera di Viena, dove aveva diretto come direttore artistico e come direttore di tantissime rappresentazioni dieci anni memorabili. Ancora oggi si parla dell'epoca d'oro dell'opera di Viena, il periodo 1897-1907, quando Mahler era il direttore musicale. Di nuovo, alla sala d'oro della Musique Verein, poco dopo la sua dimissione, e prima di emigrare forzatamente negli Stati Uniti, dirige come addio alla sua città d'adozione, dove aveva studiato, dove aveva ottenuto questi grandissimi successi come direttore, dirige, appunto come canto del cigno, la seconda sinfonia. Qui vediamo il manifesto dell'esecuzione Gesellschaft der Musik Freund, proprio la sala d'oro che conoscete tutti grazie al concerto di Capodanno dei Walser. Il 24 novembre, a due settimane della partenza per New York, lui dirige per l'ultima volta a Viena la seconda sinfonia. Qui vedete Dirigent der Komponist. Mahler arriva a New York alla fine del 1897 in Trasatlantico e inaugura la sua stagione come direttore musicale del Metropolitan con un Tristano Isotta e un anno dopo decide di presentarsi come compositore al pubblico americano, al Carnegie Hall, questo è il Carnegie Hall vecchio, qui all'interno, e proprio in questa famosissima sala di concerto, Mahler si presenta per la prima volta in quanto compositore al pubblico americano con la seconda sinfonia. Ultima esecuzione della seconda sinfonia a Parigi, Théâtre de Châtelet, 1910, siamo a un anno della morte di Mahler, un concerto organizzato dal torinese Alfredo Casella, che celebraremo moltissimo l'anno prossimo, ad aprile, che era un appassionato di Mahler, organizza questo concerto e Mahler dirige, per la prima volta come direttore della sua propria musica, a Parigi dirige la seconda sinfonia, sarà l'ultima esecuzione. Allora, Mahler inizia la composizione di questa seconda sinfonia all'età di 28 anni, e questo è molto impressionante perché è un giovane compositore e l'importanza di questa partitura, come avremo occasione di vedere questa sera, è veramente monumentale. All'epoca era la partitura più importante mai composta di una sinfonia, 85 minuti, un'ora e mezza di durata, 125 musicisti sono richiesti, che suonano 140 strumenti, comprese un'orchestra immensa, organo, campane, e una banda fuori scena, due solisti e un coro. La dinamica va da 4P, super pianissimo, a esplosione di suono, come mai si erano sentite nella storia della musica. È una forma, è a metafora, il poema sinfonico, molto in voga all'epoca, grazie a Liszt e Richard Strauss, è la sinfonia di musica assoluta, composta, per esempio, da Brahms. È una partitura totale, dove lui, come spesso ha detto, prova a costruire attraverso la sua partitura un mondo intero. E nel mondo della seconda sinfonia si parla niente di meno che un viaggio dalla morte verso l'aldilà, verso la vita eterna, almeno come aspirazione, come avremo occasione di dire. È un soffertissimo viaggio di conquista, per aspera ad astra, dalla tomba al cielo, o parlando musicalmente, come aveva fatto Beethoven nella quinta sinfonia, questo viaggio da do minore a do maggiore, tutto il percorso musicale di queste ora e mezza di musica è una lotta per passare dal do minore, una tonalità cupa, a un solare mi bemole maggiore conclusivo. La sinfonia, Mahler, la comincia a comporre a Lipsia. Qui al centro dell'immagine vediamo il grande teatro dell'opera di Lipsia. Mahler è stato nominato direttore musicale di questo teatro e ha appena finito di comporre la sua prima sinfonia e prima di aver avuto un'esecuzione subito e inarrestabilmente, come se fosse una conseguenza della partitura precedente, scrive il primo movimento di quello che diventerà la seconda sinfonia. Come vediamo, questo è il manoscritto della copertina, della partitura, e era scritto, cancellato da Mahler, sinfonia in semole, sinfonia in do minore, primo movimento. Però lui lo ha cancellato e ha scritto tottenfire, riti funebri. Mahler ha scritto in grande fretta questo grandissimo primo movimento, quasi 25 minuti di musica, però non saprà come continuare la sinfonia e quindi cancella il nome di sinfonia e lo chiama quasi come se fosse un poema sinfonico appunto alla Franz Liszt, alla Richard Strauss, Tottenfire. E qui vediamo la pagina conclusiva, se riuscite a leggere lì in 1888, pochi mesi prima, a Praga dove finisce proprio questa l'ultima pagina del primo movimento dell'orchestrazione. Mahler è talmente coinvolto con questi riti funebri del primo movimento, una grandissima marcia funebre che le succede qualcosa, qualcosa di raccapricciante. Quando è all'Ipsia, dirige la prima soluta dei Tre Pintos, un'opera incompleta di Karl Maria von Weber, che Mahler finisce, completa, in base agli schizzi di von Weber, e arrivano alla prima tantissimi donni floriali per i compositori e lui entra nella sua stanza, vede tutti questi fiori e ha un'allucinazione e vede un feretro, si avvicina alla bara e vede se stesso dentro la bara. Solo per dirvi quanto identificato era con il processo creativo di fare questa sinfonia dove il tema iniziale è la morte. Qui, a richiesta di un giornalista, Mahler, qualche anno dopo, a posteriore prova a scrivere un programma come una guida, come una pietra miliare, di che cosa succede in questa sinfonia che nella grande maggioranza dell'ora e mezza è puramente strumentale. Quindi qui dice il primo movimento e lui prova a descrivere un po' cosa succede. Siamo accanto al feretro di una persona amata, la sua vita, le sue lotte, il suo soffrire, volere, passano ancora una volta, l'ultima, dinanzi agli occhi del nostro spirito. E' l'eroe della mia prima sinfonia in re maggiore che porto alla tomba e la cui vita o serbo riflessa in un limpido specchio, come in una visione d'insieme dall'alto e intanto ecco il grande interrogativo. Questo è il tema centrale della partitura, questo grande interrogativo. Perché sei vissuto? Perché hai sofferto? Tutto questo è soltanto un immane, atroce scherzo? A queste domande dobbiamo in qualche modo rispondere. Se è il nostro destino continuare a vivere o anche solo continuare a morire. Inizio della sinfonia. Grandissimo inizio, problematico, cominciare una grande sinfonia con una marcia funebre, con la morte dell'eroe. Come continuare? Chi ha studiato la vita di Mahler sa che lui ha scritto tutte le sue sinfonie o in un anno o massimo in cicli di due anni, due estati e lui finiva una partitura, anche le più complesse. Questa partitura della seconda sinfonia è stato il parto più doloroso, più lungo, quasi sette anni di gestazione. E le ragioni sono molte. Prima di tutto, Mahler finisce il suo lavoro all'Ipsia, si trasferisce come direttore all'opera di Budapest, dove avrà tantissimo lavoro. e non solo, muoiono i suoi genitori e una sorella. Qui la tomba dei genitori è nel cimitero della città dove lui è cresciuto, a Kalisht. E vediamo, dice qui in fondo bene, c'è Bernard Mahler e Frau Marie Mahler, muoiono a pochi mesi di distanza, e poi questa dicitura, fride, dice, fride, ire, asce, sia pace per le loro polvere, per le loro cenere. Quindi tutto questo è sconvolgente per lui, non solo perde i genitori e una sorella, però rimane come custode di quattro fratelli minori ai quali deve badare da solo. Due sono, soprattutto uno, di un farabutto, e l'altro è un compositore frustrato, ma a livello di Mahler finisce suicida e Mahler dovrà finalmente occuparsi e concentrarsi su queste due sorelle che rimangono in vita. Ha un attacchio di emorroide e deve essere operato, però forse, a parte queste questioni logistiche, familiari, la cosa che lo sconvolge di più per continuare la sinfonia è un grandissimo insuccesso come compositore. Lui ha Budapest come direttore dell'opera il 20 novembre 1889, questo è il manifesto della prima assoluta, e vediamo qui in fondo musica, è scritto in ungherese che io non conosco, però me lo sono fatto tradurre, e dice Mahler è poema sinfonico, e la prima sinfonia, che all'epoca si chiamava poema sinfonico, addirittura citato in cinque movimenti, che era la versione originale, è un totale fiasco. Quando comincia questo movimento di Fra Martino Campanaro convertito in una marcia funebre, il pubblico comincia a fischiare, la stampa lo distrugge, Mahler ha vergogna di passeggiare per le strade di Budapest, perché la gente lo ha dita ricordando questo terribile concerto prima assoluta della prima sinfonia, che oggi è forse la partitura più eseguita del compositore. Per vedere il risultato di questo concerto, primo grande concerto di Mahler come compositore, vediamo Mahler qui, che suona un immenso corno, lo vedete qui con la bacchetta in mano, è una caricatura, e la cosa cattiva è che dice non una sinfonia di Mahler, vede, a Mahler sifonia, non esattamente una sinfonia di Mahler, ma dice un sifone di disgrazie, è un gioco di parole, e come vediamo di questo sifone centrale, quello che esce sono cani e porci, come si dice, e questo vi fa capire come è stato raccolto, e questo blocca la creatività di Mahler. Poco dopo verrà nominato all'età di 31 anni direttore musicale del più importante teatro di opera della Germania, l'opera d'Amburgo. Come vedete, la sua carriera di esecutore e la sua carriera di compositore hanno un passo totalmente contraposto. Lui è considerato il massimo direttore d'opera vivente, non così come compositore. Mahler ha 31 anni e qui dirige il suo primo Tristano, ha un trionfo assoluto dirigendo il Sigfrido, però è sommerso di lavoro come direttore, proprio direttore di recite, a parte del direttore musicale del teatro, e non riesce più a comporre. Succede però un altro evento. Lui ha nel cassetto questo manoscritto del primo movimento e avvicina un suo grande amico, egregio personaggio della musica europea dell'epoca, Hans von Bülow, considerato il papa della musica tedesca. Poche notizie per piazzarlo, è stato il direttore della prima soluta del Tristano Isotta e il direttore d'orchestra che ha lanciato Brahms come compositore di sinfonie, ha fatto rivelare al pubblico dell'epoca il genio di Richard Strauss, adorava Mahler in quanto direttore dell'opera di Hamburgo, erano vicini nella città, e quindi Mahler osa avvicinarlo e dire guarda io ho nel cassetto questa partitura di questa Tottenfire, questi riti funebri, vorrei farli sentire, Mahler era un eccellente pianista e quindi si trova in un camerino e Mahler comincia a suonare molto concentrato, si gira a vedere che sta succedendo con Fonbulo e lui ha le mani che si copre gli orecchi, dice maestro c'è qualcosa che non va, dice no 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 continui, continui, e Mahler finisce di suonare il movimento e Fonbulo gli dà questo verdetto, gli ha detto caro Mahler se questo è musica io non capisco niente di musica in confronto della sua partitura il Tristano Isotta che all'epoca era un'opera una partitura rivoluzionaria dice in confronto della sua partitura il Tristano Isotta suona come Haydn e quindi questo è il verdetto e questo veramente ha un effetto negativissimo su Mahler e lui veramente si sente castrato come compositore e passano gli anni e siamo nell'estate del 1893 sono passati cinque anni del giorno quando lui ha finito il primo movimento che abbiamo sentito e per la prima volta inizia una pratica che sarà fondamentale nella vita creativa di Mahler decide di affittare una casa in questo caso era un albergo sul lago del Attersee nel Salskammergut nella provincia di Salisburgo e lì accudito da la sua sorella Giustin e da una eccellente musicista innamorata di Mahler Nathalie Bauer Lechner che ha scritto una delle memorie più importanti su Mahler tradotte dal saggiatore lo potete leggere in italiano un libro fondamentale lo curano e lui riesce pian piano di nuovo a comporre e compone qui torno al programma manoscritto di Mahler questo programma dove prova a descrivere di che cosa parla la sinfonia e siamo qui lui scrive una musica un andante qui dice secondo movimento quando lui lo compone ancora non sa che funzione avrà però diciamo compone questo secondo movimento è molto diverso da quello che vi ho fatto sentire tanto che Mahler nella partitura dice alla fine del primo movimento ci deve essere una pausa di 5 minuti per un po' preparare il pubblico a un mondo totalmente diverso dolce più misurato più sereno e qui nel programma in queste piccole parole lui dice un momento felice nella vita del nostro caro scomparso quello scomparso nel primo movimento è un malinconico ricordo della sua giovinezza e della sua perduta innocenza è un Lendler Lendler è una danza tipica folclorica folcloristica austriaca è un pochino più lenta del Walser in tre quarti e è un Lendler scritto tipo come un rondò A B A B1 sempre con questo tema ricorrente intercalato con altri passaggi vi faccio sentire l'inizio come ricordava Simone Solinas è stata la prima frammento della seconda sinfonia ascoltata in Italia nel 1921 quindi andante moderato sia gemelli Nii Island molto comodo senza affrettare e così il movimento più complesso ha dei passaggi bellissimi e meravigliosi avrete occasione di sentirlo sabato però diciamo questa è una delle prime la prima cosa che Mahler riesce a comporre dopo questo blocco creativo in questo estate cinque anni dopo il Tottenfire e allora lui nello stesso periodo di vacanze estive compone un altro pezzo che diventerà il terzo movimento della sinfonia è basato su un lead una canzone che lui aveva composto un po' prima per canto e pianoforte si chiama la predica ai pesci fatto da Antonio di Padova e praticamente quello che dice il testo è Sant'Antonio di Padova trovata vuota la chiesa dove doveva parlare rivolge la sua predica ai pesci che lo ascoltano con compiaciuta devozione ma poi ritornano immediatamente al malvagio comportamento abituale è un riferimento alla impermeabilità morale dell'uomo i pesci sono il pubblico gli uomini è una satira abbastanza crudele della umanità vi faccio sentire l'inizio della versione originale per canto e pianoforte perché sarà la base del movimento sinfonico e il nostro compositore è un caso abbastanza unico in quanto compositore di sinfonie che lui componeva dei canti per ose del leader per canto e pianoforte e poi li trasformava in movimenti sinfonici e questo è un caso tipico avete sentito un po' la melodia della predica di Sant'Antonio di Padova adesso nella versione sinfonica senza la voce a parte dei colpi di timpano molto violenti che aprono il movimento poi comincia questo perpetuum mobile c'è questo ritmo questo ostinato andamento di sedicesime che si ripete in continuazione e mentre va avanti la melodia del Sermone ai pesci c'è sempre questa ossessione questo movimento che trasforma la terza parte della sinfonia in quasi una danza macabra vi faccio sentire l'inizio con questo colpo di timpani allora questa versione della predica ai pesci e il testo viene da il corno magico del fanciullo qui in manoscritto da Mahler è la grande fonte di testi di tutta la metà della vita di Mahler in quanto compositori di leader e questa è la copertina originale di questo testo fondamentale della letteratura tedesca Desknaven Wunderhorn alte deutsche leader vecchi canti tedeschi di Achim von Arnim e Clemens Brentano del 1806 e che sarà la fonte di almeno 24 leader di Mahler e di diversi movimenti sinfonici e qui vi faccio vedere la copertina della pubblicazione e come numero 6 qualcuno ha buoni occhi dice Des Antonius von Padua fishpredigt in questa serie era uno dei leader della serie e qui la descrizione vi ho detto si parla di questa predica ai pesci che sono gli uomini che sembra che ascoltano e poi tornano tutti ai loro vizi e però a un certo punto c'è una questione che non appare nel testo e che nel testo del lead che non appare nella versione per canto e pianoforte dice Mahler la vita allora appare priva di significato un incubo spaventoso da cui scuotersi d'un tratto con un grido d'orrore e vi faccio sentire questo grido d'orrore che appare verso la fine del terzo movimento della sinfonia e che è molto importante per il clima che Mahler svilupperà nell'ultimo movimento il movimento apocalittico il quarto movimento della sinfonia è stato composto sempre in questa estate dove Mahler riesce a cominciare a scrivere di nuovo e quindi tre movimenti della sinfonia 1893 e siamo al quarto movimento vedi qui dice vierte sat urlicht e quarto movimento è luce primigenia luce primigenia è uno dei lied del corno magico del fanciulo esiste in versione per canto e pianoforte e ovviamente in versione orchestrale e fondamentalmente parla dell'aspirazione dell'uomo verso la vita eterna e vi farò sentire l'inizio prima descrive la situazione drammatica dell'uomo sulla terra è un movimento per contralto e orchestra e comincia con queste parole o Rossellina rossa l'uomo giace nella più grande miseria nel più grande dolore potesse piuttosto io essere in cielo è molto interessante farvi notare che la melodia del contralto che dirà l'uomo giace nella più grande miseria nel più grande dolore è stata presa nota per nota da Shostakovich per aprire la sua decima sinfonia composta subito dopo la morte di Stalin è una sinfonia dove lui prova a descrivere in musica il disastro che ha fatto nella sua patria la Russia il governo di Stalin è molto interessante che cite Shostakovich proprio questa melodia dell'inizio di Urlicht luce primigenia dove il corno magico del fanciulo e Mahler dicono l'uomo giace nella più grande miseria nel più grande dolore questa è un'illustrazione sempre del corno magico del fanciulo come vedete appare qui per quelli con i buoni occhi numero dodici Urlicht per contralto solo e orchestra questo movimento di questa aspirazione verso l'aldilà che è tipico di Mahler vi anticipo parlerò ancora di questo argomento non era un uomo religioso per niente non seguiva nessun rito di chiesa era ebreo è stato obbligato a convertirsi al cattolicesimo per poter essere nominato all'opera di Viena che era antisemita da tutte le parti però lui è stato definito da molti studiosi come un cercatore di Dio tutta la sua vita lui cerca di credere e questa sinfonia è uno dei massimi esempi allora è molto bello che questo è l'inizio questa melodia e c'è questo tema dell'ascensione che abbiamo sentito già nel primo movimento come contrapposizione al tema della marcia funebre e che sarà e trionferà nell'ultimo movimento adesso vi faccio sentire la fine di questo movimento così raccolto così quasi intimista con il contralto Urlicht luce primigenia dove il testo dice io sono venuto da Dio e a Dio voglio tornare Dio amato mi darà un lumicino appunto Urlicht la luce primigenia che splenderà per me fino alla eterna vita abbiata la cosa interessante è che nel testo a un certo momento il personaggio entra per una strada e si presenta un angelo e l'angelo lo vuole mandar via e lui dice io non mi faccio mandar via io voglio andare in quella direzione perché quella direzione mi porta verso la luce primigenia e questo è già un primo segnale che lo vedremo palesemente nell'ultimo movimento come per Mahler è molto importante che sono io individuo essere umano che mi conquisto la vita eterna non è un un dono ma sono io con i miei le mie azioni la mia volontà il mio libero arbitrio che mi conquisto questo passaggio quindi sentiamo questa finale dell'Urlicht che è una perfetta introduzione al movimento finale allora siamo nel è finito l'estate scusate è finito l'estate 1893 Mahler ha un grandioso primo movimento Ritti funebri in questo estate dopo cinque anni di blocco creativo ha composto tre possibili movimenti sinfonici forse interludi diventeranno nella sinfonia come lui dirà però lui non sa veramente come finire la sinfonia cerca pensa non trova un'idea e finiscono le vacanze lascia l'atterse vicino a salisburgo si torna ad hamburgo e comincia questo lavoro massacrante come organizzatore e direttore d'orchestra di opere però viene nel suo aiuto Hans ricorderete l'evento quando Mahler ha suonato davanti a questo papa della musica tedesca il suo primo movimento al pianoforte quello che era successo Hans von Bülow muore e questo paradossalmente aiuterà Mahler e vi spiego come Hans von Bülow era malato i medici li consigliano per guarire di fare un viaggio turistico e andare verso i paesi caldi quindi lui prende una nave e va al Cairo e lì muore una cosa terribile muore proprio mentre provava a guarire torna la vara con questo grandissimo uomo della musica europea e Mahler assiste come tutte le personalità musicali della Germania dell'Austria del mondo musicale assistono a questo funerale nella chiesa di San Mijael San Mijael Kirche farà parentesi la chiesa dove Mahler farà questo rito pretestuoso per convertirsi al cattolicesimo per poter arrivare all'opera di Viena Mahler è seduto lì nella chiesa con tante altre persone e a un certo punto ascolta dal balcone del coro un testo che tutti le persone di lingua madre tedesca conoscono è un testo di un scrittore del settecento tale Klopstock che ha scritto questa ode che si chiama il messia e in questo messia c'è un verso che parla della resurrezione rinasce rimane folgorato e corre a casa e gli dice a un suo intimo amico ce l'ho l'idea per finire la mia sinfonia userò il testo di Klopstock e farò l'ultimo movimento un grande inno alla risurrezione e questo è un fatto quasi freudiano c'è un allievo di Freud appunto Theodor Reich che ha scritto un bellissimo libro che si chiama The Hunting Melody la melodia stregata e dove lui analizza che secondo le teorie freudiane per liberare la mia personalità io devo uccidere uccidere il padre avrete letto di questa diciamo concezione freudiana ovviamente uccidere in modo simbolico io devo staccarmi dal cordone umbilicale per trovare la mia personalità il mio mondo i miei valori e secondo questo autore doveva morire Hans von Bülow grande protettore di Mahler come direttore perché Mahler si liberasse di questo blocco creativo di questa castrazione che le aveva prodotto il rifiuto che Hans von Bülow aveva fatto della sua musica per poter andare avanti e infatti l'estate Mahler va nella sua casa sul lago di Attersee compone il suo ultimo movimento a dicembre del 1895 lui va alla stazione di Hamburgo e prende il treno verso Berlino arriva a Berlino dicembre 1895 e siamo di nuovo al manifesto della prima assoluta sinfonia in se moll sinfonia in do minore per soli core orchestra von Gustav Mahler dirigent der componiste diretta dal compositore allora viene da chiedersi che cosa ha combinato Mahler come ha concepito questo grande finale che segna la sua nascita come importante compositore di musica nuova c'erano tra il pubblico giovani musicisti il grande futuro grande direttore d'orchestra Bruno Walter i grandi futuri compositori famosissimi Schemberg Albanberg e tante personalità del mondo della musica e loro dicono dopo la recita questo è un grandissimo compositore che è apparso adesso nella scena europea il Mahler per la prima volta si costruisce una casetta di composizione un componier hoischen accanto al lago questo è proprio disegnata da lui molto semplice e qui compone tutto l'estate del 1895 in una esplosione di creatività questo scusate 1894 bisogna essere preciso 1894 compone questo ultimo movimento è il movimento più monumentale mai composto nella storia della musica fino allora è ispirato in qualche modo alla nona di Beethoven perché fa di questa sinfonia una finale sinfonie come è stato detto così come nella nona sinfonia di Beethoven il movimento clou è quello corale anche l'ultimo movimento della sinfonia risurrezione è il movimento chiave dura quasi 40 minuti di musica e succede di tutto e in poche parole una descrizione del giudizio universale proprio delle trombe dell'apocalisi e della risurrezione il testo nel programma che vi ho fatto vedere più volte questa sera vedete quinto movimento fifth sats e copre ben due pagine e in questa piccola cassetta che potete visitare aperta al pubblico e Mahler ogni tanto mentre componeva lui era un grande notatore si tuffava nell'agua attraversava a nuoto tutto il lago tornava e continuava a comporre è stato lì per tutto l'estate e ha composto questo movimento che chiude e culmina la sinfonia allora dopo questa introduzione dell'urlicht della luce primigenia di questo bambino che vuole assolutamente accedere al cielo esplode il quinto movimento senza soluzione di continuità con l'urlo che abbiamo sentito alla fine verso la fine che vi ho fatto sentire verso la fine del sermone di San Francesco di Padova ai pesci con una violenza assoluta e adesso da qui in poi Mahler prova a tornare al grande interrogativo qual è il senso della vita perché abbiamo sofferto perché abbiamo vissuto è tutto un solo scherzo c'è il niente e basta dopo la morte è un movimento che non si può catalogare con le forme della musica sinfonica mai composto un movimento così prima e con tantissime sezioni non posso dilungarmi più di tanto però vi farò sentire due passaggi fondamentali per finire Mahler descrive letteralmente il giudizio universale alla Michelangelo se volete questa è l'aspirazione e c'è la descrizione della terra che trema con effetti di percussione veramente raccapriccianti che se siete concentrati vi viene la pelle d'occa e con effetti di timbri usi di strumenti mai mai usati nella storia della musica prima di lui e lui prova a descrivere queste le tombe che si aprono e tutti i morti che escono dalle tombe e comincia questa marcia di tutti i morti che camminano verso il grande giudice e si sentono fuori scena le trombe dell'apocalisi questo che lui chiama il grande appello e io vi faccio sentire questo passaggio che per me è uno dei momenti veramente a parte provo a essere obiettivo a parte la mia passione amore per Mahler io penso che sarebbe una cosa che potrebbe ispirare il più proprio bizzarro regista di cinema e dopo diciamo le grandi esplosioni orchestrali tutto si calma e voi dovete immaginare in questa musica molto piano che vi farò sentire immaginate schiere 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 di morti che sono tornati dalle tombe e sono lì davanti a Dio se volete per essere giudicati e c'è un silenzio perché è un silenzio assolutamente tesso pieno di nervosismo di tensione e musicalmente Mahler crea questa tensione in un modo magistrale mette tutta una banda fuori scena e noi sentiamo questi corni questi appelli dall'aldilà e in scena rimane solo la gran casa che fa questo tremolo e due piccoli strumenti ottavino e un flauto e Mahler lo chiama via in vogelstime come una voce di un uccello e qualcuno ha detto è come l'ultimo sopravvissuto l'ultimo essere vivente sulla terra davanti a questa schiera di migliaia e milioni di morti che aspettano di avere il verdetto per l'aldilà e dopo questo passaggio con questi trombe che suonano fuori scena e questi due strumentini affiato sul palcoscenico con questo tremolo della gran casa dal nulla comincia questo inno alla resurrezione che dice risorgerai sì risorgerai mia cenere dopo breve riposo vita immortale ti darà che ti ha chiamato e Mahler dice il coro deve cantare quasi come un susurro quasi come humming come il coro a voce chiusa nella butterfly non lo so tutti seduti nessuno si muove in questo video li vedete che cantano memoria quindi io ero presente in questo concerto quando attacca il coro voi dite ma da dove arrivano queste voci perché voi vedete il coro immobile non c'è assolutamente nessuno che si muove in palcoscenico e comincia questo canto degli esseri umani o degli angeli non degli esseri umani degli angeli qualcosa che ci chiama verso una possibile vita eterna almeno come aspirazione tutti ce l'abbiamo anche i non credenti quindi sentiamo questo momento e adesso arriviamo al grande finale Mahler ha usato sì per questo finale corale il testo parte del testo di Klopstock però lui tutte le ultime parole che sentirete cantare sono scritte da Mahler stesso io vi faccio sentire adesso il grande culmine finale della sinfonia e Mahler ha scritto delle parole che scritte da lui le trovo molto molto speciali perché dice sono parole che in qualche modo si collegano a questo bambino del quarto movimento che vuole spostare l'angelo e passare e poter accedere alla vita eterna e Mahler scrive con ali che mi sono conquistate mi librerò in un ardente slancio d'amore verso la luce appunto l'urlicht la luce primordiale è un slancio d'amore verso la luce che nessun occhio ha mai penetrato morirò per vivere risorgerai si risorgerai il mio cuore in un istante ciò che tu hai vinto ti porterà a Dio e è scritto da Mahler che vi dicevo lui era un cercatore di Dio aveva l'aspirazione all'assoluto però lui è morto senza mai essere sicuro di non sparire nel nulla dopo la morte e dopo questa sinfonia che finisce con questo grandissimo inno così apoteosico e convinto alla resurrezione lui in quasi ogni partitura seguente sempre riaffrontarà da capo il tema della morte fino all'ultimo momento e lui aspirava voleva credere però non ce l'ha fatto e se qualcuno è interessato la soluzione la trova nel canto della terra il finale del canto della terra che è una soluzione buddista su come trovare la serenità davanti alla morte però quello è troppo lontano molti anni dopo sentiamo questo grande finale dove il coro si mette in piedi appunto a quelle parole con alle che io mi sono conquistato questo mi piace sono io che mi sono conquistato la vita eterna non con arroganza sono io con le mie azioni il mio libero arbitrio che posso trasformarmi in una cosa migliore e c'è questo grande finale con questo coro veramente apoteosico e l'orchestra al massimo e si aggiunge organo di chiesa idealmente campane e e niente quindi vi faccio sentire per finire questo grande finale con Claudio Abado e la sua orchestra del festival di Lucerna che è 2003 primo anno del festival di Lucerna che è una delle più belle registrazioni che esistano grazie